Il countdown è ufficialmente partito. Frosinone ha iniziato a colorarsi di giallo-azzurro. Da ieri bandiere e vessilli spuntano in ogni angolo della città. È il segnale che l'ora X è ormai vicina. Nella tifoseria c'è attesa entusiasmo e passione. Quando mancano ancora tre giorni a Frosinone-Foggia, ultima giornata del campionato cadetto, lo stadio Benito-Stirpe è già completamente esaurito. Tutti venduti, anche gli ultimi biglietti che erano rimasti a disposizione della tribuna centrale. Sugli spalti saranno in 15.000 a spingere i giallo-azzurri nella partita più importante della stagione. Resta soltanto da definire la situazione nel settore ospiti, ma domani è attesa la decisione ufficiale. Moreno Longo chiede suoi l'ultimissimo sforzo per conquistare i tre punti decisivi e tagliare il traguardo-promozione. Esattamente tre anni dopo il pomeriggio storico di Frosinone-Crotone. Intanto la squadra si è allenata a Ferentino, seduta pomeridiana incentrata sul lavoro tattico con esercitazioni dedicate al possesso palla e partitella finale a campo ridotto. Ancora differenziato per Roberto Crivello, Raffaele Maiello, inserito nella top 11 del campionato cadetto ieri sera, premiato a Rimini. E Danilo Soddimo, tutti e tre, non hanno ancora smaltito i rispettivi problemi fisici e restano in forte dubbio per la gara contro il Foggia. Oltre a Daniel Ciofani, sicuro e indisponibile, Lorenzo Ariaudo, diffidato ed ammonito contro la Virtus Entella e quindi squalificato per un turno dal giudice sportivo. Presto per ipotizzare una probabile formazione, ma sembra scontata la conferma del modulo tattico visto nelle ultime settimane, così come cambierà pochissimo nell'undici di partenza. Al posto di Lorenzo Ariaudo dovrebbe infatti agire nel ruolo di centrale, Luca Krajic. Lo sloveno farà coppia con Emanuele Terranova, in una difesa praticamente identica a quella vista nella mezz'ora finale di Chiavari. Viaggiano verso la conferma in blocco anche gli altri due reparti. A centrocampo spazio ancora la coppia Gori-Cibsa, con Luca Macanini, Camillo Ciano e Federico Dionisi, uomo in più di questo finale di stagione e autore dei due gol decisivi contro Carpi e Virtus Entella, a supporto di Nicola Citro. L'attesa sale con il passare delle ore. La notte che potrebbe regalare la promozione diretta si avvicina a grandi passi. Il countdown è ufficialmente partito.